I liberali europei hanno risposto no a Beppe Grillo e alla sua proposta di accasamento in Europa. Qualcuno la chiamerebbe una brutta figura. Ma cosa ne pensano i biellesi di questo rigetto o smacco subito dal Movimento 5 Stelle? Lo abbiamo chiesto in questa inchiesta. La notizia mi ha colto impreparata, non so cosa pensare. Devo valutare la situazione e guardare più avanti. Sul fatto che Beppe Grillo sia stato non accettato nel gruppo liberale, l'Europa per quello che conta nell'importanza degli italiani sia veramente in minimi termini. L'Europa non ci ha parlato di tutti i vantaggi che ci aspettavamo, anzi ci ha parlato solo dei grandi svantaggi. Praticamente si sta ricostituendo il quarto Reich nel senso che finalmente la Germania può dominare sull'Europa. fare quello che vuole. A me il Grillo già non piace tanto. Il Movimento 5 Stelle ha fallito su diversi punti e doveva proseguire la sua marcia. Come era stato fondato allora sì che era un buon partito. Ma per adesso è morto Casalecchio, è morto tutto secondo me. La vedo che in Europa dobbiamo starci, ci siamo andati e dobbiamo restarci. Visto che abbiamo anche pagato abbastanza per andare. La vedo semplicemente, assolutamente, me ne importa molto poco perché penso che i problemi, adesso ci stanno triturando i cosiddetti con questa storia qui, quando penso che i problemi reali siano veramente altri. L'ho seguito quindi non posso dire niente, mi dispiace, grazie mille. Perché si vede che loro cercano di fare qualcosa di buono e gli altri hanno paura che possono riuscirci. Scusi, un partito che è stato quello di Einaudi, che è stato quello dell'europeismo liberale e democratico, prendersi i grullini insieme non mi sembra il caso. Non so rispondere a questa domanda perché sinceramente abbiamo rasentato il fondo, quindi di politica oramai non ne so più nulla, cioè sinceramente non so proprio cosa rispondere. Non la vedo bene per il Movimento, secondo me è un passo molto molto sbagliato. Sì, ritengo che sia stata una scelta sbagliata e cambiare rotta in questo momento non è stata la cosa più giusta, mi sembra che la base abbia accolto bene la richiesta di Grillo di voler entrare nella comunità europea, però mi sembra un passo indietro, un cambiamento di rotta inaspettato da parte sua. Il Movimento 5 Stelle sai benissimo che è un movimento particolare, pieno di contraddizioni come tutti gli altri movimenti politici. Fino all'altro ieri diceva che voleva stare fuori dall'Europa, adesso dice che con quel gesto lì voleva entrare in Europa, quindi in queste contraddizioni è difficile essere accettati. Sì, non lo so, mi sembra un momento un po' confuso nella politica sia europea che italiana. Guardi, non posso pronunciarmi, sono ignorante in materia, creda, non saprei cosa dire.